Guardate un po' quanti profili mi stanno iniziando a seguire se non ci credete Quindi se qualche tuo amico non lo sa e vuole crescere su TikTok Condividi di questo video Ciao ragazzi bentornati qui in questo nuovo video Oggi siamo su un nuovo trucco Ebbene si, sto continuando a portarvi trucchi su trucchi segreti su tutte le piattaforme Perché vi ho portato i trucchi su Whatsapp e vi è piaciuto un sacco Quindi ho detto ve lo porto anche su un'altra piattaforma Ovvero TikTok Oggi scopriremo come ottenere tantissimi follower E tantissimi like su TikTok Senza cheat, hack, inserire password in siti Senza robe strane Tutto all'interno di TikTok Servirà semplicemente l'applicazione TikTok e un profilo ovviamente Prima che inizi il video vi invito a lasciare un like A commentare qua sotto nei commenti Se vi è stato utile questo trucco che vedrete ora E se questi tipi di video vi piacciono Mi raccomando ragazzi per supportarvi al massimo Iscrivetevi tutti quanti al canale E attivate la campanellina Ma senza perderci tanto in cacchere Iniziamo subito e andiamo a vedere come Possiamo crescere su TikTok Con follower e like Questo qua è il mio profilo TikTok Non ho ancora fatto video ovviamente Non ho postato nulla Ma magari più avanti potrei postare qualche TikTok Voi dovrete andare sul mio profilo Che vi lascio qua sotto in descrizione O comunque se mi chiamo semplicemente Cliccate sui miei seguiti che sono 15 E iniziate a seguirli tutti e 15 Poi smettete di seguirli e poi iniziamo a seguirli Così ragazzi So che a voi fa strano e magari vi chiederete Ma come è possibile che facendo semplicemente questo passaggio Io cresca di un sacco di follower Ok ragazzi andiamo a vedere Continuate a fare questo processo per qualche minuto Dopo un po' TikTok ovviamente vi bloccherà per qualche secondo il profilo Ma niente di che Lo fanno semplicemente perché pensano che state usando hack, robot o app di terze parti Ovviamente ragazzi tutto questo procedimento è legale E non vi iniziano a seguire robot o account fake Anzi vi iniziano a seguire profili italiani Al massimo qualche americano Ok ragazzi scusate se era scaricata la telecamera Adesso sto facendo un video con un telefono Scusate se ho cambiato l'inquadratura Comunque sia Voi dovrete iniziare a seguire appunto tutti questi 15 profili Che trovate sul mio profilo di TikTok Che vi lascio qua sotto in descrizione Iniziarli a seguire e smetterli di seguire ogni volta Fatelo tipo 5-10 minuti al giorno E fidatevi che 100 follower sicuri ci arrivate Ma arriverete anche sicuro ai 1000 Facendo questo passaggio È un semplice trucchetto che in pochissimi sanno Quindi se qualche tuo amico non lo sa E vuole crescere su TikTok Condividili questo video Guardate ragazzi se non ci credete Quanti profili mi stanno iniziando a seguire Guardate un po' quanti profili mi stanno iniziando a seguire se non ci credete In pochissimo tempo sono arrivato a 19 follower Ci ho impiegato tipo un minuto o due minuti E questo profilo era partito da zero Cioè quando ho iniziato a seguire le 15 persone Quando ho iniziato appunto a fare il video Ero già a 3 follower Però adesso ho fatto 16 follower in un minuto Inoltre ragazzi un altro trucco per crescere E commentare Ovviamente ragazzi un altro trucco per crescere E commentare tantissimi TikTok Che vi capitano nei per te Sia che quel profilo abbia tanti follower Sia che quel profilo abbia pochi follower Sia che appunto abbia poche visual E sia che abbia tante visual Fidatevi che quest'altro trucco Vi aiuterà veramente un sacco Sì ragazzi spero che questo video vi sia stato utile Se è stato così Condividete questo video a tutti i vostri amici Che hanno TikTok O almeno 3 amici che hanno TikTok Per fargli scoprire questo trucchetto Iscrivetevi al canale Lasciate un like Commentate qua sotto nei commenti Se vi è stato utile E se vi piacciono questi tipi di video Se non avete ancora visto i 10 trucchi di Whatsapp Ve lo lascio qua sotto in descrizione Noi ci becchiamo al prossimo video Bella ragazzi Noi ci becchiamo al prossimo video